da quando c'è il posto nuovo qui in napoli è quasi vivibile davi qualcosa di decente grazie e vabbè sono felice mi piace però grande armamento a tua madre ma vaffanculo ma se guarda questa come cacchio si è presentata io non ho parole come si è presentata questa qui dove è la gente? ok 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 ciao bella mi è piaciuta come cosa ciao bello lo rifaccio anche per te? ok 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 vediamo un po' questa azione qui c'è quello là ok 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 morirò cretina facendo una cazzata in mezzo ora c'è uno scar non è che è morto qui ok no giudimi cazzo perché poi alla fine muori ok 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 andiamo a vedere adesso se c'è qualcuno che c'ha tv medico no non ce l'abbiamo noi va bene uguale c'è questa questa ma che fai alla safe lontanuccio ma ci abbiamo io ormai da faccia bello non ci sono altri questo è stato non mi cecchina ma no ma ce la facciamo anche senza perché c'è manda molto e vabbè non è che mi sono stata tanto da giusto ma vediamo un po c'è una bella discesa mamma mia da cecchinata a 321 via ok rischiata alla grande come andiamo andiamo let's gooo oh la luce stasera da dove cavolo vai non mi guai era ovvio che non ti prendevo più che ovvio praticamente ovvio oh allora un po' la safe ora da me ma se lo puoi scordare ma però è che lui ha l'altezza dalla sua parte ok allora lui è sempre là no ok quello è lì non lo so dov'è lui voglio dire che mi rompeva le balle prima ma c'è da di che fattiata c'è gente andiamo a rischiare la vita eh chi se ne frega bisogna sempre giocare con onore boom baby oh ma siamo io a uno what ok ragazzi quello di prima è lui perché la montagna sa che è sempre in sé me ne vado di qua non so dove sia lui ma il giorno me ne vado di qua la fatti sotto ciao fin della partita no io e lui io mamma e tu suppondo che siamo io ooooh E' DOS Siamo bello Ciao 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 beautiful Ok un'altra pistola reale Oppure questo aspetto Perché alla fine non mi stava tirando le carezze 170 scicchio Devina Vabina 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 Vabina